torta alla ricotta con gocce di cioccolato allora per questa ricetta abbiamo bisogno di 500 grammi di ricotta 100 grammi di zucchero 3 uova 70 grammi di amido di mais 80 grammi di gocce di cioccolato e un cucchiaino di estratto alla vaniglia oppure una bustina di vaniglia comincio ad ammorbidire la ricotta e lo zucchero aggiungo le uova e amalgamo il tutto per bene aggiungo un cucchiaino di estratto alla vaniglia ma voi potete aromatizzare anche con la scorza d'arancia e l'estratto d'arancia il limone è un po' meno però se vi piace potete fare anche quello in quanto ci sono le gocce di cioccolato quindi io abbinerei più l'estratto all'arancia con la scorzetta d'arancia poi ognuno ovviamente è libero di fare come più crede io in questo momento metto l'estratto alla vaniglia aggiungo l'amido e lo setaccio vi ricordo che la torta è senza lievito ho aggiunto le gocce di cioccolata e vado ad incorporarle con una spatola ho foderato uno stampo di 24 cm e ora versiamo l'impasto aggiungo sulla superficie qualche altra goccia di cioccolato vado a mettere in forno a 170 gradi in forno ventilato e 180 gradi in forno statico in 25 minuti la nostra torta si è cotta però vi avviso ho usato la ricotta fresca se usate la ricotta confezionata l'impasto viene più liquido e quindi ci vuole qualche minuto in più per cuocere decidete voi quale delle due ricotte usare adesso andremo a toglierla dallo stampo e vediamo com'è venuta e vediamo com'è venuta e vediamo com'è venuta stiamo andiamo Grazie a tutti.